Ciao, mi chiamo Rebecca. Melissa. Ciao, mi chiamo Ambra. Ciao, sono Rachele. Mi chiamo Marco. Mi chiamo Gaia. Mi chiamo Silvia. Samantha. Ciao, sono Bianca. A me ha colpito molto l'argomento sul cyberbullismo, soprattutto sugli hashtag e le emoji che vanno usati in modo corretto. La cosa che mi è piaciuta di più del progetto sono gli hashtag. Le emoji e gli hashtag. Perché se tu metti una foto con un hashtag, poi basta andare su Google e scrivere l'hashtag e la tua foto può essere ritrovata. Mi ha colpito scoprire e conoscere quanto può nocere un commento e che cosa si nasconde dietro a esso. I commenti che vengono fatti sui social. Mi ha stupito il fatto di poter contribuire alla difesa delle persone che vengono attaccate sui social, segnalando i commenti. Dietro a uno schermo siamo più forti a dire i commenti, invece nella vita reale, quando diciamo qualcosa, siamo più timidi. Il fatto di stare attenti a commentare le foto e i video. No, Meli, guarda che cosa ho trovato. Ehi, Ambra, guarda questo video. È super bello e divertentissimo. Mandami un messaggio se ti piace. Wow, Rack, guarda. Questo video è bellissimo. Ti farà morire da ridere. Ehi, ma il video è bellissimo. Gaia, ti mando un video che ti farà ridere un botto. Silvia, guarda questo video. Ti stupirà. Ohi, Sammy, guarda cosa mi è stato inviato. Oh, Bianca, guarda che video stranissimi. Ehi, Marco, guarda. È bellissimo. Ma che cosa? Ma lo devo subito condividere. È troppo bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.